Iniziamo questa nuova serie, praticamente la bustina decide il brawler da utilizzare Questa è la bustina in questione, ora ce la andiamo a spacchettare e vediamo un attimo che brawler possiamo trovare all'interno Siamo in live in questo momento, i ragazzi mi stanno scrivendo che da queste bustine si possono trovare solo brawler Mentre in queste, che sono invece quelle tipo con l'album, queste sono di carte collezionabili, queste invece sono di sticker Non si possono trovare solo brawler, io l'altra volta l'ho aperta e ho trovato due brawler Quindi da questa teoricamente potremmo trovare solo brawler, quindi ora, vi dico la verità, ce l'andiamo ad aprire E la regola è questa, facciamo due game con ogni brawler che troveremo nella bustina, quindi andiamo ad aprire questa bustina Allora raga, abbiamo deciso con la chat, perché forse due game con ogni brawler che esce da qua potenzialmente può uscire troppo lungo il video Quindi raga, facciamo un game con ogni brawler che esce, poi vediamo se farlo più là, vediamo qualche altro game E niente, perché potenzialmente si pensa che non escono, non si possono trovare solo brawler ma anche punti energia, gem e skin e via dicendo Quindi vediamo un attimo e andiamo ad aprirle raga Allora, già chi ha detto colt ha indovinato raga, perché infatti la prima card è colt Eccola qua raga, la prima è colt, poi la seconda è sempre colt Ma scusi, ma scusi, mi sta confondendo, la terza card è Danamike, ok Poi abbiamo Brock, questo chi è? No è Bibi? Bibi? Ok E poi abbiamo, uh, questa carta speciale che è di Bibi, ma è bellissima questa raga, mi scusi Raga, spettacolare questa skin Allora raga, allora, quindi Raga, ricapitolando, praticamente sono uscite raga C'è assù, c'è una full scammato raga, c'è nel senso Guardate qua, è uscito Skin di Bibi, c'è nel senso Bibi Poi Bibi speciale Cioè, non l'ho capita, mi sta proprio fregando E poi abbiamo colt colt, non l'ho capita sta colt colt raga Perché? Qual è la differenza, scusi Ma mi scusi gioco? Vabbè, comunque raga, vediamo se qualcuno ha indovinato Potenzialmente avevo detto che dovevate scegliere due brawler Sono Danamike, Bibi e Colt Vediamo se qualcuno nella chat ha indovinato E poi andiamo a fare un game con ogni brawler Ci siamo raga, ricapitolando abbiamo trovato queste carte Praticamente sono due versioni di Bibi Due versioni di Colt e una di Danamike Quindi andiamo ora in game a farci un game con ogni brawler Iniziamo con Bibi Diciamo che c'è la carta speciale Anche se ce l'ho a livello 1 raga Madonna Bibi raga, non l'ho mai portata alta E vabbè raga, che devo fa? Andiamo con Bibi raga Andiamo su footbrawl E si va a fare il primo game di questa nuova challenge Questo penso che è il primo game che faccio Quindi se sono abbastanza Faccio abbastanza caga con sto brawler Vabbè che i brawler saranno scarsissimi E' stranissimo Vabbè raga E' abbastanza easy raga E' abbastanza easy perché sono a livello troppo basso Raga, a parte che io C'è proprio Bibi non la so proprio usare Ok Ma non la so proprio utilizzare Ma mi sa che questo game è andato troppo veloce Ne facciamo un altro con Bibi raga Perché Bibi avendocela abbastanza bassa E purtroppo incontriamo davvero i bot Che più bot non si può raga Quindi facciamo un altro game Facciamo due game Ma anche se ve l'ho detto prima Raga Bibi non la so utilizzare E sono abbastanza Abbastanza scarso Infatti ci sono Cioè morire dai bot raga Vuol dire che sei proprio Madonna mia Madonna Ci siamo stati Vabbè ma comunque raga Ma c'è proprio Madonna Vai 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 Ma non so se si può aprire con questa Non lo so Vabbè raga Ma è proprio troppo easy raga Troppo easy così dai Colte E Colte ce l'ho anche 25 Leggermente droppato Eccolo qui Con la bella schinnetta E però ce ne andiamo su K.O Senza doggiare Non è per niente facile usare Usare Colte Specialmente ce l'ho anche 25 Non ce l'ho così basso Eh kit no però Kit no però Kit no raga Insopportabile kit raga Kit davvero insopportabile raga Attenzione Ok qualche danno fatto Eh stiamo cercando di fare un po' di danni ma La vedo stra stra difficile raga Attenzione Attenzione Non è per niente facile Uff L'ho preso Eh raga è difficile È difficile qua Attenzione Attenzione Mamma mia Mamma mia Andata raga L'ho giocata malissimo E eccomi Nessun problema Nessun problema Nessun problema Aspetta che ora vediamo Aspetta che Ma raga Colte non l'ho Non l'ho Oddio No Ma come No raga è impossibile Sta cosa Mi scusi Ma mi scusi Aspetta un secondo Che ora guardiamo Ora guardiamo Allia Andiamo un attimo Mamma mia Ragazzi Stavo morendo Proprio male pure Di quanto è che non utilizzo Colte ragazzi Quando l'abbiamo fatto Questo rank 25 Davvero troppo tempo Mi sa Attenzione Vabbè ma questa è stata Abbastanza easy Ha fatto tutto lui Tutto bene Aperti i pacchetti Che hai trovato Ho trovato due Colt E poi due Bibi Infatti Bibi Già l'abbiamo Abbiamo già fatto due game Con Bibi Ora stiamo andando Con Colt Eh però comunque Raga Sono troppo Sono troppo Indemoniati Raga ma che è Però ci sta Raga perché Uff Madonna mia Non utilizzo Colt Da rank 25 Raga quindi Dovete darmi un attimo Giusto Un secondo per Oh l'ho distrutto L'avevo fatto davvero Troppo male L'avevo fatto Un sacco di male Killato Buono Beh raga Che dovevo fare Raga Che dovevo fare Se trovi Jaggy La porti al 35 Sì al 200 La porti Calma Madonna L'ho distrutto Raga Oddio Raga Madonna Ma che gli ho fatto Raga No sono morto Peccato Avevo fatto una bella Quasi Quasi tripla Ma era difficile Va bene Va bene Va bene Vediamo No Raga Ho giocato davvero benissimo Questo Danamike Attenzione Andiamo 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 Intanto l'elicottero qua Sto cercando di Di andare a catturare Qualche prigioniero Sentite l'elicottero Ma che cazzo Raga Ma ci sono gli elicotteri Ma che è Dio Nel nuovo update Il nuovo Hypercharge Ma ancora Non è arrivato Perché ovviamente Arriverà con La nuova season Anche se penso Che è dal 12 Vediamo ora Quando arriveranno Le 9 Hypercharge Vediamo se riesce a fare Sta cavola di kill Niente raga Abbiamo perso Miseramente Con Colt Andata estremamente male Io mi farei Non lo so Ora andiamo Ci manca solo Danamike Teoricamente raga Infatti Queste sono le card Raga Ve l'ho fatta vedere prima Sono abbastanza particolari Ci manca solo Danamike Danamike Ce l'ho a rank 25 Possiamo andare a farci Tranquillamente No rank 20 Scusatemi Possiamo andare a farci Tranquillamente Una foot brawl E si va nel chill Andiamo Dalla chat Vediamo Grazie per i follow Brother Benvenuto Attenzione Con Danamike Qua non è per niente male Bello Buona La gestina Non è male Buono Con calma Bellissimo GG Aspetta 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 Vai Che ha fatto Non mi scusi Oddio Ok Perfetto Niente Non muore Bellissimo Bravo Qua abbiamo fatto Una bella Giocata Danamike Almeno è più gestibile Perché ce l'ho Anche 20 Non ce l'ho Chissà che alto Ci può stare Buona questa killetta Mi dia Mi dia Mi dia Mi dia Fammi fare Sto gol Let's go Bellissima Almeno abbiamo chiuso Questa challenge In maniera Davvero Davvero Carina Vabbè Questa L'ho giocata Egregiamente Dai Diciamo che L'ho giocata Egregiamente Questa Mi raccomando Commentate Se vi piace Questo contenuto Secondo me ci sta Potremmo portare Anche questa Quest'altra tipologia Di bustine Che sono diverse E niente Grazie a tutti